Saranno avviati a breve i lavori di riparazione per la pubblica illuminazione di via Marconi a Vigevano. È già stato effettuato un primo sopralluogo dai tecnici. Le vie limitrofe al centro della città all'inizio dell'inverno si erano trovate al buio a causa dell'anzianità degli impianti. L'illuminazione era stata sistemata, ma non nell'ultimo tratto di via Marconi, che invece era rimasto senza luce. La situazione aveva portato diversi disagi ai residenti che, dal tardo pomeriggio in poi, avevano paura di entrare a casa. Non potendo vedere al meglio, spesso i cittadini dovevano ricorrere all'uso delle torce. Proprio nell'ultimo tratto di via Marconi, alcuni passanti avevano trovato la cassa di un locale del centro che era stato derubato nella notte. Il fatto era avvenuto a metà gennaio. Lì, probabilmente, il ladro potrebbe aver avuto modo di svuotare con calma il registratore di cassa, approfittando dell'assenza di luce. I residenti della via, che avevano sollecitato più volte il problema dell'illuminazione agli uffici tecnici comunali senza ricevere aiuto, dopo lo spiacevole episodio, avevano ricontattato il comune, sperando in un cambiamento. Abbiamo voluto riprendere la zona appena dopo il tramonto. Questa è la situazione con cui, chi abita nella via, ha dovuto convivere per mesi sino alle prime luci dell'alba. Ora, finalmente, gli uffici comunali interverranno e i lampioni saranno sistemati. Grazie. Grazie.